Mister, possiamo definirla la vittoria del cuore? La vittoria del gruppo? Assolutamente sì, perché è stata una partita al cardiopalmo. Abbiamo sofferto in una maniera incredibile, però nel secondo tempo siamo riusciti a soffrire e a spuntarla. Bisogna dire grazie a Leo Taurino, che è riuscito a mettere la palla in rete, a Figliola, che quando è stato chiamato in causa ha fatto due parate strepitose, e bisogna dire soprattutto grazie al gruppo, in assoluto il gruppo, perché il gruppo ha dimostrato di esserlo e quando c'è gruppo si possono ottenere tutti i risultati, anche quelli impossibili. Dieci punti in quattro partite intanto alla guida del Bitonto, quanta soddisfazione c'è? Non nego che la soddisfazione sia tanta. Quando sono arrivato sapevo che c'era un gruppo sotto l'aspetto tecnico di grossa levatura, c'era da motivarlo sotto l'aspetto mentale, perché magari avevano fatto fin lì un percorso altalenante e quindi non avevano forse piena coscienza delle proprie potenzialità, delle proprie qualità. Cercato di lavorare sulla testa di ognuno di loro, i risultati si stanno vedendo, quindi sono contento e sono sicuramente orgoglioso di questo. Le chiedo, mister, anche un giudizio sulla prova di Nocerino ed Esposito, che sono entrate a gara in corso e insomma hanno partecipato in maniera importante a questa vittoria? Assolutamente, sono entrati nel migliore dei modi, come speravo entrassero, come lo stesso Piarulli, sono entrati alla grande, ma sono entrati sapendo che magari devono fare dei minuti di sacrificio, l'hanno fatto e quindi hanno contribuito anche loro a portare a casa questo risultato importante. Equilibrio resta la parola d'ordine per la classifica di questo girone H di Serie D, vi attende un prossimo impegno già tra quattro giorni, avrete diversi squalificati. Sì, mi devi credere, so di qualche risultato delle altre squadre, non li ho visti tutti, so di qualche vittoria, tipo del Fasano, del Molfetta, però in questo momento io, come dico sempre loro, non bisogna guardare la classifica. Noi sapevamo dal mio arrivo che c'era da scalare una montagna importante, domenica dopo domenica stiamo mettendo dei passi uno avanti all'altro e quindi alla fine della scalata vedremo dove saremo senza guardare la vetta e se saremo lì su vuole dire che avremo lavorato nei migliori dei modi. Poi per domenica l'arbitro è stato chirurgico, ha munito tutta quella gente che era difidata e quindi domenica dobbiamo trovare delle soluzioni importanti, visto che affrontiamo una compagine in salute che sta facendo un gran campionato.